Se segui i prestiti.online oggi, puoi scoprire che, il Family Banker è più di un semplice consulente finanziario. È un partner finanziario per tutta la famiglia, che ti aiuta a pianificare i tuoi obiettivi finanziari, gestire gli investimenti e molto altro. Immagina di voler comprare una casa o pianificare la pensione, un Family Banker ti guida passo dopo passo. Iniziato da Banca Mediolanum in Italia, grazie al suo fondatore, Ennio Doris, grande amico di Silvio Berlusconi, oggi il modello è adottato a livello globale. Vuoi saperne di più? Scopri tutto nel nostro articolo, perché, se segui i prestiti.online oggi, puoi scoprire che, il Family Banker è più di un semplice consulente finanziario.